la grazia di cristo non da solo ti prometto di essere fideli quanto solo nella gioia solo della salute soprattutto nel dolore soprattutto nella malattia ed è lì che si dimostra se una persona veramente mi ama perché stare con una persona con cui va tutto bene è liscio è facile stare accanto a una persona per sempre in qualsiasi momento possa accadere qualsiasi cosa questo è amore perché amore non significa divertimento o quello che pensare un uomo amore significa donare la vita amatevi di uno e altri come io amate voi dice Gesù che significa io faccio il tutto possibile perché tu sia fresco perché tu stia bene non penso a me stesso penso solo a te questo è amore e soprattutto avere il coraggio di dimostrare a tutto il mondo e anche a tutti gli amici siamo stati insieme per sempre a tutti i amici siamo stati assieme per il mondo e anche a tutti i amici siamo stati insieme per il mondo e anche a tutti i amici siamo stati assoluti Grazie! Grazie! Grazie!